Iniziare Ok, stop Va bene Oggi parliamo di due argomenti Uno è questo che vedete, il context Sarà abbastanza breve, vediamo solo un esempio già fatto Che è già online sul github Quindi nella settimana 09 Trovate già l'esempietto che è poi quello che vediamo sulle slides Solo che è in forma completa E poi parliamo del router Mentre il context è una cosa che si può usare o non usare A seconda della necessità Il router invece è un aspetto fondamentale Probabilmente dovrete usarlo per la vostra applicazione Per qualsiasi applicazione che non sia proprio minimale Diciamo che un router è abbastanza importante Comunque, adesso parliamo del context Cosa serve il context? Dunque, voi sapete che in React Abbiamo la necessità di passare Properties, le props Da un componente all'altro E per farciò dobbiamo scrivere esplicitamente Tutte le props che vogliamo passare Da un componente Ai componenti figli Che dichiariamo nel JSX Che ritorna il componente Da cui passiamo le props E le dobbiamo elencare una per una E ogni volta che c'è un nuovo componente Dobbiamo ricopiarle Mi sarà successo magari in laboratorio Che so di passare lo stato Che magari avete messo in app Che è il posto tipico dove si tiene lo stato dell'applicazione Cioè i dati Mi sarà capitato di doverlo passare a un componente Che so, la main page Non lo so, qualcosa di questo tipo In cui poi mettete un altro componente Che è la tabella E dovete passare questa informazione due volte Uno al livello del primo componente Uno al livello del secondo componente Quando l'applicazione si complica E quindi ci sono tanti componenti La gerarchia si allunga Quindi c'è un padre che passa al figlio Che poi deve passare all'altro figlio E così via Quest'operazione di passare ogni volta Alle varie props Può diventare scomoda E quindi è stato pensato Questo meccanismo del context Quindi è un meccanismo Che ci evita di fare questo buco Attraverso tanti componenti Passando ogni volta esplicitamente Le props che ci servono Che può diventare scomodo Forse vi è anche capitato Di solito capita quando uno programma Si dimentica un livello di passare una props La trova a un define del componente In cui serve Perché? Perché si è scordato A un certo punto Che voleva passarne una C'era un componente di mezzo E quindi c'è questa API del context Che è propria di React Che ci consente Diciamo di rendere disponibile In maniera semplice Un insieme di proprietà E metodi Che decidiamo noi Ai componenti Al di sotto del contesto Dove noi inseriamo appunto Il componente contesto Una specie di teletrasporto Delle props Senza che noi dobbiamo esplicitamente Farle passare da un componente all'altro Così come siamo stati abituati Fino ad oggi Ci sono tanti casi In cui questo può essere utile Soprattutto nell'applicazione Un po' più grande È chiaro che se abbiamo quattro componenti Diciamo L'utilità finisce È un po' limitata Quindi non è In granché Però Diciamo Se ci sono tanti componenti Può essere utile E in particolare Nelle applicazioni grandi Per esempio Ci può essere qualche proprietà Che abbiamo bisogno di distribuire A molti componenti Per esempio Tutti i componenti Che si occupano di visualizzazione Questo è il caso Per esempio Del cosiddetto tema Tema visuale Lo volete chiaro O lo volete scuro E tutti i componenti Devono poi Avere la possibilità Di saperlo Perché devono magari Mettere un attributo Una classe Diciamo così Sul loro class name Che dice Scuro Chiaro E poi sarà già fatta Magari da React Boost Troppo da chiunque Insomma Che però Dica Qual è il tema Che vogliamo usare Per la visualizzazione E Ovviamente Questa Proprietà Non ci serve Il livello di app Non ci serve Il livello dei componenti Che fanno da container Ma sono i componenti Visualizzazione Che di solito Sono quelli Che Sono Le foglie Del nostro albero Quindi gli ultimi Nella gerarchia Del nostro albero Ma La proprietà Deve stare A livello radice Perché se no Non è disponibile A tutti I figli I componenti Che condividono La stessa radice Quindi questo È un esempio Oppure Quando faremo Un po' di autenticazione Per esempio Il fatto che L'utente È autenticato O no Per visualizzare Un certo insieme Di informazioni O no Un'altra di queste Caratteristiche Può stare bene In un context Cioè In un posto Che sia Facilmente Agganciabile Da tutti i componenti All'interno Della nostra applicazione Oppure Per esempio Che so La lingua Adesso L'esempio Che andremo a vedere Che abbiamo fatto Sulle slide Vi ho messo online Per esempio Fornisce la traduzione In diverse lingue Che è di nuovo Un aspetto Di presentazione Noi sappiamo Che c'è la stringa Che va sul bottone Ma se siamo in italiano Dobbiamo far vedere Una certa scritta Se siamo in inglese Un'altra Eccetera Diciamo Dobbiamo sapere In quale lingua Siamo E questa informazione Ci deve essere disponibile Di nuovo In tutti i componenti Di visualizzazione Questo è solo Un piccolo esempio Di Quando Ci può essere utile Il context Come funziona Allora Esistono Fondamentalmente Tre Momenti In cui Dobbiamo agire In React Uno È la definizione Del context Quindi Qualcuno lo deve creare Siamo noi Ovviamente Che programmiamo Chiediamo a React Di creare un context C'è una funzione apposta Che ci crea un oggetto Cosa c'è dentro Ci interessa Nel senso Che lo andremo Ad utilizzare Ma non Vogliamo sapere Come è stato implementato Perché noi Lo usiamo solamente A noi viene dato Come sempre Un riferimento All'oggetto Come per tutti gli oggetti Javascript E poi Noi possiamo Usare Questo Riferimento All'oggetto Per estrarre Due componenti Uno È il context Provider Quello che fornisce L'informazione Quello che Ci Sarà il proprietario Della proprietà Quindi il detentore Quindi il detentore Della proprietà Che noi O delle proprietà Che noi vogliamo Distribuire Nella nostra applicazione Tramite il meccanismo Del context Eventuali altri metodi Che servono a modificarlo E così via E poi ci sono i consumer Che sono I componenti Che andranno Ad usare Questa informazione Questa Questa proprietà O queste proprietà Che vogliamo Andare a rendere Disponibile I nostri componenti Il provider È sotto forma Di un componente React Quindi lo scriveremo Nel JSX Come minore Qualcosa Come se fosse Un elemento HTML È un elemento Virtuale Nel senso che Non verrà renderizzato Come un elemento HTML Perché non ha Un corrispondente HTML Però dice a React Da adesso in poi Tutti i componenti Figli Hanno a disposizione L'informazione Fornita da questo provider E qui Specificheremo Che informazione Vogliamo rendere Disponibile Tramite il value Il consumer È il componente Al di sotto Del quale Questa informazione Disponibile Tramite il context Può essere usata Quindi sarà resa Disponibile Abbiamo due forme Diverse Di consumo Diciamo Dell'informazione Del context Uno tramite Di nuovo Un componente React apposta Il consumer Che Vedremo tra poco Come si utilizza Oppure In maniera Un po' più semplice Abbiamo a disposizione Un hook Come abbiamo già visto Lo use state Qui c'è un altro hook Ci saranno tanti hook Ma andiamo avanti C'è un hook apposta Per il context Che ci consente Di accedere direttamente Al valore Del Del context Che è stato fornito Dal provider La seconda sintassi Vi anticipo E sarà sicuramente La più semplice Allora Vediamo un attimo Nel dettaglio Come funziona E Allora Quando creiamo Dobbiamo fornire Un valore di default Che è il valore iniziale Un po' come lo stato Non è effettivamente Proprio uno stato Nel senso che Beh sì No Diciamo di fatto È uno stato Di fatto è uno stato Quindi questo è il valore iniziale Va bene Diciamo è uno stato E contiene due proprietà Abbiamo già visto Il provider consumer E Il suo valore È quello che noi vogliamo distribuire Questo valore Può anche essere Come sempre Un oggetto più complicato Se non abbiamo solo da distribuire Che so Un valore Primitivo di javascript Come che so Una stringa Linguaggio italiano inglese Piuttosto che Cosa che abbiamo detto La Così Abbiamo fatto Il tema No Chiaro scuro Boolean Anche solo È chiaro Sì no Eccetera Può essere un oggetto Anche complicato Quindi possiamo distribuire Più proprietà insieme Incapsulandole In un unico oggetto Poi è vero che potremmo Fare più context Ma di solito Se sono collegate È meglio averle in un singolo oggetto Ok E I componenti Poi I componenti nostri Della nostra applicazione Potranno fare il subscribe Cioè consumare Questa informazione No E andranno a cercare Nella gerarchia Dei componenti Il Fornitore Di contesto Più vicino Tipicamente Tipicamente in un'applicazione Semplice Avremo un unico contesto Quindi ce ne sarà uno solo Lo metteremo a livello Diciamo Sotto app Così si distribuisce In tutta l'applicazione Ma in un'applicazione Più complicata Potremmo avere Più context Se i context Si sovrappongono Il più vicino Verrà utilizzato Se Non c'è Un Settato un valore Verrà utilizzato Il valore di default O quello che decidiamo Quando creiamo il context E nel momento in cui Mettiamo il provider Dobbiamo decidere Che valore Effettivamente Rendiamo disponibile Ok Quindi Andiamo a vedere Un esempio Che è la cosa più semplice Per capire come funziona Il tutto Quindi Creiamo Un'applicazione Molto molto semplice Multilanguage Nel senso che Facciamo l'esempio In cui mettiamo L'informazione Su quale linguaggio Vogliamo utilizzare Per visualizzare Il contenuto In un context Per semplicità Perché poi avremo Due o tre componenti In questa applicazione Che è molto semplice Quindi Noi Abbiamo una scritta E un bottone La nostra applicazione È tutta qui Non mettiamo Bustra Ma non mettiamo nulla È una roba molto semplice Però Vogliamo Avere Uno stato Che sarà In che lingua È visualizzata L'interfaccia Dell'applicazione E sulla base Di questa informazione Decidiamo Se Visualizzare La lingua italiana O la lingua inglese Ok Quindi Ci sarà uno stato Ci sarà questo stato Che vogliamo Passare Come context A tutti i componenti Che fanno visualizzazione Nel nostro caso Sarà Un bottone Nel testo Dentro un bottone E poi Una semplice scritta Adesso non ricordo Se in un div Un p Qualcosa di Diciamo Che ci consente Di fare visualizzazione Di una scritta Ok Il bottone Premendolo Ci consentirà Di cambiare lingua Così facciamo pratica Anche con Andare a modificare Il valore di un context Tramite Una callback Come sempre Come facciamo sempre In React Per andare a modificare Uno stato Ok Quindi Questa è la nostra app La nostra app Fondamentalmente La scriviamo Diciamo Come scriveremmo Normalmente Un'applicazione React Quindi Partiamo con Un Nostro Return Div class App name Qui potrebbe esserci Il container Di bootstrap Quello che volete Insomma Il container Della nostra applicazione E abbiamo dentro Qui per semplicità Solamente due componenti Il welcome Quindi La scritta E il button E li ho fatti Sotto forma Di componenti Perché voglio farvi vedere Come fare A passare Questa informazione Quindi questo language Senza metterlo Esplicitamente Come un attributo Di componenti Perché Questo è il metodo Tradizionale E' chiaro che qui La cosa è talmente semplice Che potremmo metterlo E avremmo finito Il nostro discorso Però Nel momento in cui avete Dei componenti Annidati Eccetera Potete Passare Questa informazione Senza passarla Ogni volta Ad ogni componente Ok E poi Abbiamo Lo stato Quindi il classico Stato Che Diciamo Definiamo Come abbiamo visto Le altre volte Quindi uno UserState Language SetLanguage Quindi c'è una variabile Di stato C'è un metodo Che ci consente Di modificare lo stato Che chiede A React Di modificare lo stato E che noi Andiamo a chiamare Con un certo valore Che sarà English o Italian String Che decidiamo noi Perché noi abbiamo deciso Che nello stato Ci sta questa string E che andrà A fare la modifica Sulla base Dello stato precedente Quindi qui ripassiamo Quello che abbiamo fatto L'altra volta Quindi Visto che dipende Dallo stato precedente Nella set Dello stato Andiamo a passare A una callback Che prende come valore Il valore precedente Dello stato E sulla base Di questo valore Calcola un valore Di ritorno Che funzioni Di quello stato Quindi se il vecchio language Questo sarebbe L'old language E English Ci ritorna Italian Se invece Non era English Evidentemente era Italian Ci da English Ok Bene Questo nulla di nuovo E In questo caso Abbiamo passato Togo il language Va bene Potevamo mettere Anche dentro il context Magari Possiamo provare A fare questa modifica Ok Creiamo il context Il context Si crea Come dicevamo prima React Create context Non abbiamo messo Un valore di default Quindi sarà undefined Ma non è un problema Nel senso che Se noi scriviamo bene Il provider C'è sempre un valore Il valore di default È proprio per Perché quando React Non sa che cosa fare Deve prendere un valore E allora abbiamo la possibilità Di specificare Questo valore di default Ok Qui l'abbiamo fatto In un file separato Così intanto Facciamo pratica Anche con I moduli Che dovrebbe essere Una lettura Che dovete fare Per oggi Quindi Qui questo file È veramente ridotto E deve importare React Perché deve avere Il metodo React Punto Create context E poi E poi fa l'export Di questa variabile E così Dall'altra parte Potremmo fare Poi in app Import language context From language context Mi approfitto Per ripassare Quei moduli Visto che dovevate leggere Per oggi Quando importate Senza mettere Punto barra Importate dalle librerie Quando invece importate Con punto barra È relativo Al percorso corrente Quindi se abbiamo Un'unica cartella Dovremmo sempre mettere Punto barra E andremo a Cercare un file Che si chiama Language context Possiamo mettere L'estensione Quindi qui verrà cercato Punto gs Punto gs Se invece abbiamo Delle sottocartelle Che se ci siamo Fatti la sottocartella Components O qualcos'altro Per tenere L'applicazione Un po' più ordinata Quando ci sono Tanti file Dovremmo considerare In che cartella Si trova Il file App Per esempio E allora qui Metteremo Punto barra Components Barra Il nome del file Eccetera Ok Però visto che Visual Studio Code Nelle ultime versioni Vi suggerisce già Import Quindi diciamo Queste cose Sono proprio Solo Di Come dire Di ripasso Anzi Ci da una mano In maniera molto Semplificata L'ambiente di sviluppo Ok Quindi noi abbiamo definito Il context E l'abbiamo importato In app Quindi in app Abbiamo questo Language context Che è una variabile Che potremmo usare Per andare a fare Tutte le nostre operazioni Quindi dovremmo Creare un provider E un consumer Che è quello Che facciamo adesso Quindi un componente Provider Viene automaticamente Creato per ogni context Ma anche un consumer Questo dalla Create context E poi Dobbiamo specificare Questo value Che sarà disponibile A tutti i Componenti Consumer Annidati Al di sotto Del provider Anche se sono Annidati in maniera Molto profonda Ed è questa ovviamente L'utilità del context Perché al primo livello Possiamo passare Alla prop Non cambia niente Però se ci sono 3, 4, 5 livelli È molto comodo Perché non dobbiamo Ad ogni livello Andare a passare Alla prop Ok Occhio solo Che i consumer Devono essere Annidati Dentro il provider Quindi per sapere Il valore Il consumer Deve essere Nella gerarchia Sotto il provider Ma questo Diciamo È abbastanza Ragionevoli I provider Possono essere In qualsiasi Punto Della nostra Gerarchia Quindi anche Al massimo livello Per esempio Che è la cosa Più comune Nelle applicazioni Non troppo complicate Possono essere Annidati Va bene E se si chiamano Nella stessa maniera Alla fine Si sovrascrivono Quindi si prende Il più interno Ma diciamo Questo è un Dettaglio Perché Cerchiamo di evitarlo Per semplicità Quando il valore Di un provider Cambia Tutti i consumer Faranno re-render Quindi react Automaticamente Sa che ci sono I consumer Quali sono i consumer Che usano Questa informazione E così come fa Con le props Fa con il valore Del context Che se cambia Scatena re-render Di tutti i componenti Consumer Nella logica Di react Perché se qualcosa È cambiato Va a vedere Cos'è cambiato Crea il virtual DOM Viene confrontato Con il DOM reale E si riporta Le differenze Quindi quello Che avete visto In laboratorio Finora con le props Ok Quindi Vediamo L'esempio L'esempio Quindi mette Il language context Che abbiamo importato Dal file esterno Più che altro Per far pratica Potevamo scriverlo Direttamente qui Però Per comodità Cioè Per fare Si pratica Comodità più o meno Sono tre righe L'abbiamo portato Dentro app.js E quindi Dentro app.js Diciamo Al massimo livello Comunque Al di sopra Di dove vogliamo Consumare le informazioni Mettiamo il nostro Language context Punto provider Con un valore Che ci interessa Il valore Che ci interessa Che è quello Che vogliamo passare Come informazione Diciamo Come props A tutti i componenti Che stanno sotto Che faranno da consumer Ok Quindi Qui A noi interessa Ovviamente Passarlo a welcome A button Dobbiamo metterla Almeno al di sopra Di welcome A button Ok Questo è un componente Virtuale Quindi non fa un render Non è un div Non è uno span Non è nulla E sostanzialmente Nella gerarchia react Dice da qui in poi C'è a disposizione Questo Contexto Ok Benissimo Quindi qui abbiamo Aggiunto Il provider E adesso andiamo A consumare Quindi Il consumer Questo è fatto Come component Che è la versione Più difficile Quindi lo guardiamo Un po' rapidamente Poi vi faccio vedere La versione hook Che è molto più semplice E intuitiva Che consuma Il valore Quindi usa Il valore Quindi Siccome abbiamo fatto Create context Abbiamo a disposizione Il Nel nostro caso Language context Punto provider Language context Punto consumer Di nuovo sotto forma Di componente Che possiamo mettere Nel jsx Se usiamo il componente Dobbiamo scrivere Una callback function Che riceve Come valore Il valore Del context E Come Valore di ritorno Deve ritornare Gli elementi reacted Di cui fare il render E quindi questa è la cosa Un po' scomoda No? Perché Sostanzialmente Se noi scriviamo Un consumer Sotto questa forma Poi dobbiamo Aprire il graph A mettere il valore Frecce E scrivere Tutto sotto forma Di una callback Che può essere Complicato Perché Fondamentalmente Dobbiamo scrivere Dell'altro jsx E abbiamo messo Di mezzo Una funzione Che Diciamo così Rompe un po' Le scatole Quindi Questa è la sintassi Si è calata Nel nostro caso Vorrebbe dire Che Nei nostri Button E welcome Dobbiamo scrivere In questa maniera Allora Prima di tutto Dobbiamo avere Il context A disposizione Quindi anche In questi file Importiamo Language context Che è Il valore Della variabile Deve essere Anche Un po' Lungo Soprattutto Se poi Magari avete Due context Eccetera Comincia a diventare Macchinoso Come tutti I modi Di scrivere Le callback Lo sapete Ok Qui abbiamo Un button Niente di particolare Un click Props Tog language Questa l'abbiamo In questo caso Passata Come props Normale Quindi Nulla di particolare È una props Viene a disposizione Props Tog language E poi Ci mettiamo Il valore Abbiamo fatto Un file translation In cui Fondamentalmente Ci sarà Un oggetto Indicizzato Tramite Il valore Di language Che ci consente Di andare A recuperare La traduzione Niente di particolare Ok Quindi questo Si fa per button E questo si fa Anche per welcome Uguale Stessa cosa Quindi Aperta graffa Funzione Quindi callback Sotto forma Di arrow function Perché Diciamo La scrittura Più compatta Ed è quella Che disturba Meno La lettura Del codice E qui Ecco Qui abbiamo Fatto un p Con la sua Traduzione Ok In un caso Andiamo a prendere La traduzione Di button Cioè quello Che vogliamo Visualizzare Nel button In un altro caso Il messaggio Di welcome E questa è una Possibilità Questo esempio Fatto così Funziona Quindi abbiamo Finito Nel senso Che abbiamo Fornito il valore Value Ok Value È fisso Qui Value Uguale Devo sempre scrivere Value Uguale Quello che cambia Ciò che noi possiamo passare Cioè il valore Che ci interessa E questo È di nuovo Una variabile Che decidiamo noi In cui Verrà messo Ciò che abbiamo messo Dentro queste parentesi Graffe Infatti per questo Ci sono queste frecce Arancioni Tratteggiate Che ci dicono Che il valore Di value Viene teletrasportato Dentro i componenti Che vogliono usare Il consumer Ok Qui come dicevo prima Avremmo semplicemente Potuto scrivere Language Uguale language Eccetera Ma non vi facevo Vedere il context Però se c'era Un welcome E poi c'era Un my button E poi c'era Il button Eccetera Indipendentemente Da quanti componenti C'erano Tra il nostro Well No scusa Un button qui My button Eccetera Indipendentemente Dal numero Di componenti Che c'erano Questa proprietà Questa informazione Veniva teletrasportata Senza Scriverci noi Le varie props Di passaggio Dal componente Provider A quello Consumer E lì poteva essere usata Ok Va bene Questa è la versione Un po' Macchinosa Visto che hanno Introdotto Gli hooks In React Si è pensato Di usare un hook Anche per il context Che semplifica Non di poco La scrittura Il hook Si chiama Use context E fondamentalmente Ci ritorna Direttamente Il valore E allora Non dovendo scrivere Una callback Ma avendo una variabile Che è il valore Che noi interessa usare Ovviamente È un po' Più facile Scrivere Tutto il nostro codice Perché non dobbiamo Più scrivere Una callback Ma semplicemente Abbiamo un valore Che quando È necessario usare Apriamo graffe E mettiamo dentro Ok Quindi L'equivalente Diciamo Di quella prima No? Xcontr Consumer Apertagraph Value Frecce Eccetera Con il jsx Diventa Semplicemente Cost Value Uguale Use context Con il nome Del context Che abbiamo creato Quindi nel nostro caso Cosa abbiamo usato? Language context No? E poi Abbiamo il valore E lo usiamo Come ci pare Quindi come Come se fosse una props Non scriviamo più Props Punto Qualcosa Perché non è una props Ma una variabile Che abbiamo Ricavato dentro La nostra funzione La usiamo Come tutte le altre variabili Dentro la nostra funzione Ok A questo punto Magari vi chiedete Ma c'è una maniera Di creare Un oggetto Context O un provider Con jux Che è molto più semplice No? Tipo Che ne so Cost provider Uguale a Use context provider Che ne so No Non c'è Per ora non c'è Ok? Quindi Quello che abbiamo fatto Per la creazione del context E per il provider Deve essere fatto in quella maniera Però Non è troppo difficile No? Si tratta di aggiungere un componente Col suo valore Abbastanza tradizionale E si discosta poco Dal jsx Che abbiamo visto finora No? La cosa più interessante È quella del look Per il consumo Perché questo In effetti Ci rende il codice Più leggibile No? Quindi look C'è solo per l'uso Ma in effetti L'uso È il punto Dove noi dobbiamo Scrivere più codice No? Perché se dobbiamo Distribuire un'informazione Dobbiamo avere un provider Ma magari abbiamo Tanti consumer Anzi Spesso avremo Tanti consumer Ok Quindi Esempio di prima Rifatto con gli hook Del use context Per consumare il valore E stesso codice di prima Quindi qui a sinistra Non cambia nulla Il provider È sempre uguale Sempre componente JSX Nel JSX E invece cambia il codice Qui a destra Quindi noi facciamo Cost language Uguale use context Che ovviamente Dobbiamo importare Ma come lo use state Come tutti gli use Che avremo in react E poi usiamo il valore Quindi senza fare la callback Andiamo a usare il valore Language Come una normale variabile Ok? Come facevamo prima Solo che prima c'era La callback di mezzo No? Quindi Dovevamo fare Return Il consumer Apertagraffa Language Freccia E poi scrivere il nostro button Lo faccio rivedere Il consumer Apertagraffa Language Freccia E scrivere button Eccetera eccetera Qui Invece Vedete c'è anche Meno codice più grande Language E poi scrivo il mio JSX Esattamente come prima Come avessi una props No? Solo che non ci scrivo props Punto davanti Quindi va bene Sia per il button Va bene sia anche per il welcome No? Molto più semplice Molto comodo Quindi io vi consiglio Se volete usare un context Di usare Look Per consumare il valore Perché è la cosa Più leggibile Più facile Come dicevo prima Questa variabile Può anche essere Di tipo complesso Nel senso Può anche essere Un oggetto Un array Eccetera E qui È una cosa Semplice Quindi è una stringa No? Ho messo inglese Italiano Però può essere anche Di tipo più complesso Quindi se ho bisogno Di passare tre valori Non devo fare Tre provider E tre consumer Perché se no Ovviamente divento matto Se ha senso Tenerli separati Per qualche motivo Perché ci sono Consumatori diversi Il provider Deve essere messo In posti diversi È un conto Ma se devo distribuire Due o tre valori Diciamo insieme Semplicemente Faccio un oggetto Con delle proprietà E poi mi ritrovo L'oggetto E posso usare Le proprietà Ok? Vabbè Questo è un po' Diciamo Se posso usare Appunto Più Multiple Context Qui si vede Solo l'uso Però Devo poi Crearne Diversi Quindi devo fare Create Context Devo farne due Se ne uso due E poi Devo avere due provider E così via Qual è il vantaggio Di averne di più È che sono indipendenti Quindi se io voglio mettere Il provider In un certo ramo Dell'albero Un provider In un certo ramo E un altro provider In un'altra parte Ovviamente posso farlo Invece se ne ho uno solo Chiaramente Un unico punto Dove posso mettere Il provider Ok Va bene Questa è semplicemente La sintassica Vedete che Nel momento in cui Avessi più consumer Se uso Le callback Anziché I Gli hook Diventa Abbastanza macchinoso Perché Aperta graffa Freccia Un altro consumer Freccia Un Un altro JSX E così via E questo è un esempio Semplice Il più semplice Che possiamo fare Se voi avete Un'applicazione complicata Come dire Si comincia A non capirci più nulla Ok Ecco qui Tra l'altro vedete Anche un esempio In cui Possiamo usare Degli oggetti Qui usano Non user Ma user Punto name Quindi c'è Un oggetto In cui c'è una proprietà Name Che avrà il valore Che ci interessa Questo è per esempio Una cosa abbastanza tipica All'esame potete fare come volete Ma se volete usare il context Per esempio Per l'informazione Nell'utente logato Magari ci volete tenere Nome Cognome E Non so Qualche informazione Relativa all'applicazione Non so Cosa potrebbe essere Tipo di utente Utente amministratore Utilizzatore Non lo so Cliente Seconda di cosa Chiede l'applicazione No Quindi Un context Con un oggetto Con varie proprietà Con quello che vi serve Come faccio a cambiare I valori del context Beh Allora Se nel context Metto una props Non c'è nulla da cambiare Perché le props Sono immutabili Però se ci metto Uno stato Come ho fatto prima Per cui Io volevo poi cambiare Da italiano Inglese Eccetera Si pone lo stesso problema Degli stati Che abbiamo visto Sempre finora Quindi Se Io ci metto Uno stato Devo poi avere Una callback Che mi vada A modificare lo stato Perché lo stato È modificabile Sempre e solo Dalla funzione Che ci ritorna La use state Quindi Vediamo Dobbiamo tornare indietro Quindi Cioè Io devo sempre Poter avere accesso Alla set language Per andare a modificare Lo stato E se non sono Dentro app Questa set language In qualche forma Deve essere richiamata O passo direttamente La set language Oppure Ho delle funzioni Che usano La set language Dentro app Che saranno passate Prima abbiamo passato La toggle language Che serve Era passata Come props A button E questa mi consentiva Va di andare a modificare Lo stato Quello che dobbiamo Sapere È come funziona Lo stato Una volta Che noi Lo mettiamo Dentro un componente Lo stato È parte Del componente Che contiene Il provider Quindi noi Quindi noi Dobbiamo Se vogliamo Usare come Stato Qualcosa Che sia Uno stato Dobbiamo avere Il provider Messo nel Jxx Del componente Dove lo stato È definito Come abbiamo fatto Prima In app In app C'era la definizione Dello stato In app C'era Language Qualcosa Provider Quindi lì C'era il provider Lì c'era lo stato E va bene così Perché il provider Da solo Non può contenere Lo stato Prima di tutto Il provider Non lo scriviamo Noi Il provider Ci è fornito La create context Crea Automaticamente Il provider E il consumer Non lo creiamo Noi Quindi non è che Dentro il provider Possiamo scrivere Function Provider Eccetera No Perché il provider È già fatto E Non è Nell'oggetto context Quindi non ce lo fornisce Automaticamente React Col create Context Dobbiamo farlo noi Perché è uno stato Da mettere Da qualche parte Nella nostra applicazione Quindi l'unica attenzione Che dobbiamo avere È che lo stato Sia Nello stesso posto Dove noi Mettiamo poi Il provider Ok La callback Possiamo Sia Passarla separatamente Come abbiamo fatto In questo esempio Abbiamo fatto Un props Punto Nel button Quindi l'abbiamo Passata separatamente Al di fuori Del context Oppure Potevamo creare Un oggetto E oltre ad avere La lingua Potevamo Passarci anche La callback Ok Che è comodo Perché spesso Quando Passo Questa informazione Magari voglio anche Avere la possibilità Di andarla a modificare Magari non in tutti Consumer Ma in qualche consumer Posso avere la necessità Di andarla a modificare Come nel nostro caso Sarebbe comodo Averla Perché nel button Così ho anche Che è la funzione Per andare a fare La modifica Ok Ultime parole Poi andiamo a vedere L'esempio Che è già online Allora Prima di tutto Attenzione Questi sono i caveats Cioè Fare attenzione A queste cose Ovviamente Il context Ha il suo utilizzo Che vi ho descritto Cioè Bypassa Il passaggio Di props Tra un componente E i figli Quindi Bisogna Usarlo Con moderazione Usarlo effettivamente Dove Riteniamo che sia utile Ma non usarlo Per passare tutto Perché se no Stiamo perdendo I vantaggi Di react E stiamo Come dire Riducendo Un po' La capacità Di react Di mantenerci L'applicazione Ordinata Non usarlo Semplicemente Perché siamo pigli Non ho voglia Di mettere La props Sul componente Che poi devo passare All'altro componente Eccetera Perché se Diciamo Andiamo Ad usare L'informazione Solo in un ramo Del nostro albero Oppure E' molto specifica Di quel componente Che andiamo A utilizzare E così via E non ha senso Che sia un contesto Cioè una cosa Utile Per tutta L'applicazione Buona parte Dell'applicazione Non andiamo a creare Un contesto Che peraltro Comunque Un po' di codice Ci vuole E va bene Non usare Per correggere Errori Di progetto Nel senso Che spesso Se non ho a disposizione Queste informazioni Magari è perché Ho fatto male L'albero Di componenti Piuttosto Aggiusto L'albero Di componenti E non vado A creare Un contesto Perché non so più Come passare Un'informazione Da una parte All'altra E c'è qualcosa Che non quadra Magari Semplicemente Basta portare Uno stato Più in alto Nell'albero Di componenti E si risolve Il problema Lo passo come props Normalmente Ho risolto Il mio problema Non è che vado A creare un contesto A livello di app In cui ci metto Le cose Così tutti Le vedono Perché non sapevo Come passare Da una parte All'altra Va bene Andiamo a vedere L'esempio Quindi io vi ho messo Online Un context Quindi qui siamo In av1 Wix Quindi il solito Nostro sito GitHub Av1 Wix È il nostro corso Wix 0.9 Questo l'ho già fatto Non solo ieri Sia Che era festa Ma comunque L'ho già fatto prima Appla Questo è il commit Context Quindi c'è un progettino È separato Dal react Qua Quindi Un altro progettino Che io ho aperto qui Nel Visual Studio Code E Ci sono I file Che abbiamo visto Sulle slide Un po' sistemati Mi accorgo adesso Che Effettivamente Allora qui Chiudiamo un attimo Che ho scritto N It Anziché English Italian Eccetera Insomma però Sono modifiche minori Questa è app Col suo stato Col toggle language Col provider E poi c'è Il language context Che è quello Che crea il context Come vedete Ha proprio Tre righe di codice È il minimo Indispensabile Creazione Import di react Export di quello Che abbiamo creato E poi ci sono I due componenti Si Ci sta tutto Quindi c'è Il button Che ho chiamato My button Così per comodità Potevano lasciare Button maiuscolo Ma non volevo confonderlo Con quello di Bootstrap react Se poi mettete Bootstrap react C'è di nuovo Button con la B maiuscola Si crea conflitto Ma adesso non l'ho messo Comunque Bootstrap react Il my button Language Use context Io vi suggerisco Di usare sempre L'hook Perché è veramente Semplice Intuitivo C'è stata una buona Trovata L'hook Diciamo per react Use context Language E poi Lo usiamo Una variabile La usiamo Come in tutti i casi In cui usiamo Le variabili Nel jsx In questo caso Lo usiamo Per fare cosa Un look up In un oggetto Quindi cerchiamo La proprietà Che ha il nome Pari a language Nell'oggetto Translations E poi cerchiamo La proprietà Button Vi faccio vedere Com'è L'oggetto Translations Semplicemente Un oggetto Con due proprietà Che sono A loro volta Oggetti Che hanno Due proprietà Di nome Welcome E button Che sono I valori Delle stringhe Da usare Questo è un Semplice modo Di gestire La cosa Ovviamente Per gestire Applicazioni Multilingue Ci sarà Una qualche Libreria In giro Che magari Lo fa in maniera Un po' più Raffinata Di noi Perché chiaramente Adesso Se abbiamo Due lingue Una cosa Se ne abbiamo 20 Magari La cosa Comincia a diventare Machinosa Ma questo è proprio Solo un esempio Didattico Potevamo farlo Con l'utente Ma in questo momento Non abbiamo un utente Potevamo farlo Con delle notifiche Avete una lista Di notifiche Da visualizzare Magari Tutti Gli elementi Della vostra Possono creare Possono creare notifiche E voi Le volete visualizzare In un certo posto Della vostra applicazione Questo È un ottimo esempio Per decidere Di usare Un context In cui Fondamentalmente Passate Non il valore Ma una funzione In che possa Aggiungere una notifica E la portate In un unico componente Dentro la vostra applicazione Dove visualizzate La lista Delle notifiche Per esempio Ok Quindi proviamo A far funzionare L'applicazione Quindi Allora Qui Siamo nella cartella Giusta Quindi siamo nella cartella Che ha Il package JSON Che vi faccio anche vedere Che fondamentalmente Usa Niente di particolare Nel senso Che questo qui È il default Ho creato con Vite Il progetto Ci ho messo dentro I file E non ho messo Nessun'altra libreria Non c'è il dj Non c'è il bootstrap React bootstrap Nulla E quindi ci sono solo Diciamo I classici plugin Di react Ok Cioè i react E i plugin di react Per Diciamo Gestire Lo sviluppo Quindi Qui ho già fatto Npm install A casa Perché non voglio farvi Perdere tempo Qui a lezione Poi si sa mai Come se la rete funziona Comunque Se lo rifaccio Non capita nulla Se non ci sono Dei pacchetti Da modificare Non succede nulla Npm Run dev Vediamo l'applicazione Che funziona Quindi Parte Faccio O Si apre E andiamo a vedere L'applicazione Che è composta Da due soli elementi Perché ho messo Un p col testo E un button Col testo Del bottone Allora Prima di tutto La proviamo Adesso siamo in inglese Perché avremmo messo Penso come Valore iniziale Dello stato English E quindi mi fa vedere L'inglese Se premo il bottone Viene l'italiano Se ripremo Viene l'inglese Quindi Nulla di particolare Questo è l'albero Dei componenti Quindi c'è Context provider Will welcome Il button E Nel nukes C'è il context Va bene Ma non è nelle props Come abbiamo già visto Nel codice Cioè Non è props Punto language Cosa che avrei potuto fare Perché questa è un'applicazione Particolarmente piccola Avete delle domande Dei dubbi A riguardo Se no possiamo fare Una piccola modifica Magari Della verità Non l'ho provata Quindi spero che funzioni tutto Ma Facciamo questa prova Vi dicevo Che in app Noi possiamo anche Decidere di passare Un Un oggetto Anziché Una Una stringa No Per esempio Questo toggle language Che passiamo come props Potremmo incorporarlo Nel valore Del Del Context No Quindi Language Allora Anziché Passare language No Passiamo un oggetto Come faccio Come faccio Lo creo Aperta e chiusa Graffa Language Devo dare un nome Alla proprietà language Lang Virgola Ok E poi Toggle Toggle language Toggle language Ok O TL Chiamata come volete Insomma Quindi questa la possiamo togliere Se io lo passo come valore del mio provider Ok Quindi adesso salvo Vado nel component E devo ricordarmi Che Qui sotto Language Il language È diventato un oggetto Quindi Const Lang Ok Viene fuori Quell'oggetto che ho creato E di là Poi facciamo Const Language Language Uguale Lang Punto Language Ok Perché Perché io qui in app L'ho creato così Lang Language Non voglio farvi sempre language 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 Se no non si capisce più niente di che cosa è cosa Ok Quindi il primo è Il primo è Il L'oggetto E il secondo è la proprietà dell'oggetto Quindi ho sbagliato L'ho scritto Lang Dove scrivere Lang Ok La proprietà dell'oggetto Che poi chiamo come voglio Eh E lo uso qui dentro Ok Quindi forse Facciamo object Se no appunto Poi finisce Che Che ho fatto Che mi sono confuso anche io Ok Quindi anche qui C'è fuori l'oggetto E quindi avremo Const Language Uguale Object Lang Ok E const Toggle Language Object Quella di sopra Object Object Toggle Uff Non riesco a scrivere con questa tastiera Toggle Toggle Language Ok E qui A questo punto Non è più una props Ma è una variabile Che io estratto Dall'oggetto Ok E quindi qui Si l'avevo già tolto Il passaggio E passo tutto Tramite il context Vediamo se funziona Spero di si Ricarichiamo Ok Funziona Quindi avete visto Che facendo un oggetto Che facendo un oggetto più complicato Quindi Creato direttamente al volo qui Potevo crearlo sopra Fa lo stesso Non è importante Posso passare a un oggetto Che contiene anche Dei riferimenti A delle callback Le callback Che mi vanno a modificare Il valore Anche del context Ok Quindi Avete tutto a disposizione Per gestire il context Nella maniera migliore Che Ritenete Ritenete Ok Quindi adesso Vi faccio il commit Così ce l'avete a disposizione E se non avete Dei dubbi O delle domande Il nostro context Diciamo Finisce qui Volevo vedere Quali erano I find Modificati Che non trovo più Perché Spero di averli fatti Perché non me li Non so più Dove sono finiti I file Dovrebbero comparire qua Forse non ho fatto L'edit Dovrebbe essere Fatto l'edit Nella Adqa Soluzione Vabbè Adesso non li trovo Lo faccio nell'intervallo Allora Bon Language context Però Component Boh No Questo è il messaggio Non è il filtro Va bene Dopo nell'intervallo Li cerco Non so Perché Non ha voglia Di farmeli vedere Ma Forse ho combinato Quel che posticcio Non ero Nel git Mi si fa strano Va bene Non fa niente Non perdiamo tempo Si Lo stato è definito nel Si Si Non lo chiamerei Scope Non lo chiamerei Componente Si 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 In tutti i Sottocomponenti Tutto ciò che sta Qui Nella gerarchia Del GSX Sotto il provider Quindi questi Ma anche quelli che stanno Dentro lì A welcome My button Eccetera Se io ho una gerarchia Complicata Come avete probabilmente Il laboratorio Ci sarà Due o tre livelli Di componenti Vostri Ma anche quelli di React Il valore si propaga Ed è agganciabile Con use context In qualunque Di questi Sottocomponenti Ok L'unico posto Dove non è agganciabile È il di fuori Del context provider Ma se noi il context provider Lo mettiamo a livello massimo Fondamentalmente È agganciabile Da tutti i componenti Della nostra applicazione Ok Prego C'è un'altra domanda Sì Sì A definisce il contesto Ma questo contesto Magari serve Soltanto all'ultimo D Sì 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 I figli intermedi Non devono utilizzare Use context No Se ha una catena di componenti Lo ripeto Così sentono anche Chi ascolta la registrazione Se c'è una catena di componenti Quindi A Poi c'è il figlio B Poi c'è il figlio C Di B Il figlio D Di C E il componente intermedi Non ha bisogno Di fare use context Lo fa solo l'ultimo D Se voi avete bisogno Di questo valore in D Fa use context E Questo valore del context Viene Come dicevamo all'inizio Teletrasportato Attraverso tutti questi componenti Ma i componenti Non lo vedono Se non fanno use context Non ce l'hanno Non gli interessa Ne fanno nulla Come se lei avesse Passato una props E questa props Non viene usata Nel componente Passa E non viene usata Ok Il principio del context È evitare di scrivere Tutte queste props Che passano E non vengono usate Per tenere un po' pulito Il nostro codice Ok Prego Ok Direi che Non vedo altre Dubbie o domande Quindi Facciamo Che andiamo avanti Col prossimo argomento Che sicuramente È un po' più impegnativo Perché Tutte le applicazioni Fondamentalmente Hanno necessità Di usare Il router A meno che non siano Veramente banali Come la nostra applicazione Diciamo Di base Che abbiamo appena visto Ok Funziona tutto Dove è andato? Ok Allora Prima di tutto Perché ci serve Questo router E che cos'è? Quindi Le applicazioni Sottotitoli Le applicazioni Hanno più di una pagina No? E finora Abbiamo fatto tutto Come se fosse Un'unica pagina Se siete stati in laboratorio Avete fatto Il form di editing Avete fatto Una variabile di controllo Uno stato Che serviva a visualizzare A nascondere l'edit Se l'avete già fatto Però Diciamo Questo approccio Ha un po' Delle limitazioni Perché se Abbiamo tante viste Nella nostra applicazione Noi vorremmo Poterle separare E gestire In maniera un po' più Ordinata Che Riempiendo L'applicazione Di stati Show form Show list Show edit Show admin L'amministratore E così via No? E diventa complicato Show il dettaglio Del film Eccetera Quindi Qual è il problema? Il problema è che Nelle applicazioni Più complicate Appunto Ho più viste E quindi Devo avere Un meccanismo efficiente Per Prima di tutto Dire quali sono le viste E poi per descrivere Non posso Diventare matto A forza di if O switch Case Eccetera Su delle variabili Di stato Per decidere Cosa visualizzare Che so per esempio In app E dire Voglio la vista Della lista Di film Voglio il dettaglio Di un film Voglio l'edit Voglio il menu Di amministrazione Voglio non so cosa Diventare matto A forza di if D'altronde Le applicazioni Tradizionali Non single page Application Questo problema L'avevano già risolto Perché? Perché avevate Più pagine Per ora Noi abbiamo sempre Lavorato su singola pagina Ma nelle applicazioni Tradizionali Ci sono più pagine Voi fate Tanti file Ogni file Corrisponde a una vista C'è del codice Che genera Dinamicamente Il contenuto E ogni Ogni pagina Ha il suo contenuto Allora Perché non possiamo Avere una cosa Di questo tipo Anche nelle single page Application E in effetti Diciamo Quello che vediamo Adesso Risolve E crea qualcosa Di simile Alle applicazioni Web tradizionali Quindi Diciamo Quindi Il motivo Forse principale Per cui Abbiamo necessità Di avere Queste Diverse pagine E per creare Diverse viste Perché un'applicazione Tipicamente Ha diverse viste A meno che non sia Veramente banale Come quella Che abbiamo appena Visto E poi Diciamo Le applicazioni Web Tradizionalmente Funzionavano In questa maniera Con le varie viste E tra l'altro Con un url Quindi Quello che c'è Scritto in cima Sulla barra Di navigazione Del browser Questa cosa In cima No Localhost Eccetera Eccetera Che di solito È www Google.com Barra Non lo so www.facebook Eccetera Barra Qualcosa Noi siamo Abituati Che questa cosa È indicativa Della pagina Che stiamo Vedendo Perché Perché poi Perché poi Quest'urla Magari può essere usato Per referenziare La pagina Cioè È un bookmark Una cosa Che possiamo usare Per caricare direttamente Quella pagina Nella nostra applicazione E non Ripartire sempre Dall'inizio Ok Quindi Queste sono Le necessità Che abbiamo Nell'applicazione Tradizionale Che vorremmo Risolvere in maniera Efficiente Nell'applicazione Single page Se noi Ricaricassimo L'applicazione Ogni volta Che cambiamo URL Dovremmo Ricaricare Tantissimo codice Perché la nostra Applicazione Fondamentalmente È codice JavaScript Ogni volta Che cambiamo La pagina Ma soprattutto Avremo il problema Che dobbiamo mettere Lo stato Della nostra Applicazione Da qualche parte E se ricarichiamo La pagina Fondamentalmente Se nella memoria Di JavaScript Va perso Quindi Abbiamo bisogno Che a livello Di JavaScript Ci sia qualcuno Che ci dia Una mano Per creare Queste Viste Possibilmente Con degli URL Differenti Senza Ricaricare L'applicazione Ok Questo è utile Perché Lo fanno tutti Perché se Diciamo Voi avete un URL Diverso Per ogni vista Come dicevo prima Potete Anche andare A referenziarlo Cioè A usarlo Come bookmark Come link Per andare A fare accesso A un certo Contenuto Nella vostra Applicazione Direttamente Senza ripartire Dalla pagina Principale Come se Aveste un libro Con diversi capitoli Voi volete linkare Il capitolo 5 Non volete Che avere un link Che vi porti sempre Alla lista Di contenuti Volete avere Il link Al capitolo 5 Però Questo vuol dire Che dovete avere Un link Che non sia più Solo slash Cioè la pagina Municipale Ma slash Capitolo 5 O profilo Quello che volete Insomma Ok E questo Lo fanno appunto Tutti i siti Implementati In modalità Single page Application Come sono tutti I siti moderni Facebook Google E cose via Sono tutti Fatti così E però Ci consentono Di avere I link A A Certe pagine Pagine Specifiche All'interno Del sito Non dovete Per forza Referenziare Sempre solo Direttori Radice Ok Questo L'abbiamo Abbiamo detto Sostanzialmente Molti casi D'uso Ricadono In questo In questa Hanno questa Necessità No Ok Un'altra cosa Che ci viene Comoda Anche se nel corso Non la faremo Non la useremo Mai Però nel momento In cui avete Gli urle E questi urle Cambiano Mano a mano Che voi Vi spostate Diciamo così Navigate Vi muovete All'interno La vostra applicazione E che potete andare Avanti e indietro Ecco i bottoni Del browser Cosa sempre Un po' delicata Perché poi La gestione Dello stato Deve essere fatta bene Quando tornate indietro Bisogna ricostruire Lo stato precedente E così via Quindi non sempre È così facile E per questo Che noi La metteremo Un po' da parte Nel nostro caso Però Fondamentalmente Avere diversi urle Vi consente Di andare avanti e indietro Se invece Voi avete sempre Solo l'urle Slash Non avete più Un urle Che cambia Quindi i bottoni Avanti e indietro Non funzionano più Il browser Non sa più Che voi avete cambiato pagina Perché non c'è un urle Diverso Ok Allora Cominciamo a capire Cosa questo comporta Per la nostra applicazione web Allora Noi abbiamo Un'applicazione react Che quando carichiamo Ritorna sempre Lo stesso contenuto No? Quindi noi Possiamo scrivere Facciamo la prova Visto che ce l'abbiamo aperta No? Localhost Eccetera ABCD Carichiamo Quindi do invio E viene fuori Sempre la stessa pagina E in qualsiasi urle Noi mettiamo Perché? Perché in questo momento Noi non stiamo gestendo l'urlo E il server web Di sviluppo Di react Che Vite Quello script Ci ha installato E configurato in questa maniera Qualsiasi urle Noi chiediamo Viene sempre fuori La pagina principale Perché? Perché la nostra applicazione È fatta così Ha sempre solo una pagina Ok? Quindi a questi urle Non corrisponde nulla Ok? A meno che Adesso Troveremo il sistema Di farglielo corrispondere Se noi Vogliamo che qualcosa Corrisponda A questi urle Dobbiamo avere Un qualche cosa Che lato applicazione Quindi lato In questo caso Client Vada a capire Su che urle Mi trovo Il contenuto servito dal server È sempre lo stesso Ma Quello che visualizzo Dipenderà da quello Che c'è scritto Sull'urle Ok? Ok? Questo è importante A capire Nelle applicazioni web Tradizionali L'urle Va a finire sul server Viene interpretato dal server E ci viene fuori Una pagina diversa Ok? La lista Dei contenuti Il capitolo 5 Il sotto capitoletto 5.1 E così via Il server Che ci dà una cosa diversa Nelle applicazioni web Single page Application Quello che ci viene caricato È sempre lo stesso Indipendentemente dall'urle Esattamente come adesso Se noi Aggiungiamo la funzionalità Di gestione dell'urle Quello che ci viene caricato La prima cosa che fa È Va a leggere l'urle E ci mostra Una cosa diversa Sulla base Di quello che c'è scritto Nell'urle Ma è sempre Lo stesso codice Che viene caricato Dal server web Ok? Perché l'applicazione È comunque Dentro è single page Poi ha Un router Quello che abbiamo chiamato Router Che va a vedere Qual è l'url E decide che cosa farci vedere Malato client Ok? Questo è diverso Dall'applicazione web Tradizionale Quindi App La prima cosa che fa Va a vedere Se lo facciamo Come facciamo Tra poco Va a vedere Va a vedere Qual è l'url E decide Che cosa farci Visualizzare Se noi abbiamo Slash Avremo la pagina Principale Se abbiamo Slash Utente Barra Enrico Ci sarà L'informazione Enrico Se abbiamo Slash Lista film Barra 5 Ci sarà Il quinto film Della lista E l'informazione Il quinto film Della lista E così via E ovviamente Noi che programmiamo L'applicazione Determineremo Quali sono Gli url Che ci interessa Gestire Ok Quindi Andiamo a vedere Come fare Facciamo un po' di teoria Poi facciamo pausa E nella seconda parte La applichiamo Come sempre Perché poi giovedì Dovete provare A farlo voi In laboratorio Come sempre Ok Allora Per gestire l'url Non ci mettiamo Noi a mano A farlo Anche se avremo Tutti gli elementi Perché Diciamo C'è un oggetto Globale Javascript Si chiama Location Che potremmo andare A interrogare Ci dice Qual è l'url Ci facciamo Il nostro codice Switch Eccetera Ma non vogliamo Farlo Perché poi Questo diventa Difficile Di integrare In React React Ha la sua gestione Della visualizzazione Tramite componenti Eccetera Per cui ci avvaliamo Di qualcuno Che ha scritto Il codice per noi Ben integrato In React E che ha scritto Questa libreria Che noi chiamiamo Router No Ne scegliamo Una Vedrete Diciamo C'è una Molto comune Utilizzata Quando vogliamo Cambiare pagina Di decidere Cosa visualizzare Sul nuovo url Ovviamente Questo glielo Dobbiamo dire Noi Ma sapendolo Quando vede Il nuovo url Carica automaticamente Quello che noi vogliamo Quello che noi vogliamo visualizzare E quindi Decide Quali componenti React Devono essere Renderizzato Per ad ogni url Location Sarebbero Gli url Location Perché? Perché poi La variabile All'interno del dom Si chiama Location Va bene Quindi In linea di principio Ogni volta che l'utente Clicca su un nuovo url Quindi su un qualcosa Di sensibile Che ci porterebbe A un nuovo url Evitiamo La solitazione Default Del browser Quindi non facciamo Caricare l'url Perché se facciamo Caricare il browser Ricarica la pagina Vuol dire che c'è Zero A tutta la memoria Di javascript Si ricarica tutto Da zero E quindi perdiamo Lo stato dell'applicazione Quindi evitiamo Questo E questo url Viene gestito Dal router Il quale Fa in modo Che l'applicazione React Carichi i componenti Che corrispondono All'url Che è stato Cliccato Ok? Quindi scarica Via i componenti Che non servono più Carica i nuovi componenti Ok? Come facciamo A far funzionare Tutto? Usiamo Una libreria Che sorprendentemente Si chiama React Trattino Router Forse siamo La 6.12 Non la 6.11 Qui tutti i momenti Aggiornano La versione Comunque A noi interessa Diciamo La major version Soprattutto La 6 E l'ultima La installiamo In questa maniera React Router DOM Esistono Diversi tipi Di router Perché ci sono Anche quelli Per le applicazioni Native Eccetera Noi Questa cosa La lasciamo Da parte Chi volesse Approfondire Curioso Può andarsela A vedere Ma noi ci occupiamo Di quello Del DOM Quello del DOM È quello Che funziona All'interno Del browser DOM Document Object Model È quello Che È collegato Il funzionamento All'interno All'interno Del browser Quindi Qui non c'è niente Da capire Dobbiamo fare L'install E poi abbiamo Un import Che possiamo fare E ci saranno Dei nuovi componenti React Da usare Per creare Le nostre Route Cioè Gli URL A cui corrispondono Delle visualizzazioni Quindi Quindi È facile Da usare Da capire Usa Normali componenti React Di nuovo Virtuali Come quelli di prima Cioè Non è che creano Un div Creano Uno span Un blocco Sono componenti Virtuali Che diciamo Istruiscono React A fare Certe azioni Cioè O meglio Hanno delle azioni Collegate Al loro render Ci sono I componenti Che ci consentono Di inserire Dei link Perché Perché I link Non ne possiamo Fare a meno Nel momento In cui Vogliamo avere Diverse pagine Collegate Dai link Noi vorremmo Che cliccando Da una parte Si vada Sulla nuova pagina Quindi Dobbiamo avere Un meccanismo Per andare Sulla nuova pagina E questo meccanismo Per esempio Può essere Link Ma non può essere Il minore A Cioè L'ancor Tradizionale Del web Del browser Perché Quello Mi ricarica La pagina Se ho Un componente Apposta Che già È gestito Dal router È meglio E questo componente C'è Si chiama Link Poi Ho dei componenti Root E roots Che mi servono A descrivere La gerarchia Delle root All'interno Della mia applicazione E poi Tanto per cambiare Ho del hook Che Useremo Non tanto il primo Ma il navigate Soprattutto perché Ci fornisce un metodo Per dire In maniera programmatica Cioè nel codice Quando stiamo scrivendo Una callback Un event handler E così via Ho finito Naviga Verso questo url Perché lì Non possiamo mettere Un componente Non possiamo mettere Il jsx Dobbiamo chiamare Una funzione Questa funzione Ce la darà Il Look Use navigate Per far funzionare Il tutto È necessario Che l'applicazione Quindi La app Il componente App O meglio Vabbè Quello che c'è sotto Il componente App Sia Wrappato Cioè Racchiuso In un container Browser Router Perché usiamo Quello del browser Ok Quindi fondamentalmente Cosa Cosa dobbiamo fare Noi dobbiamo definire Una serie di root Quindi queste qui Path Uguale Adesso poi vediamo Nel dettaglio Tutti i parametri Però Path E dobbiamo decidere Che in questa applicazione Abbiamo deciso Che ci sono tre root Quella principale Slash Poi se c'è Slash About Mostriamo un'altra cosa Se c'è Slash Dashboard Mostriamo un'altra cosa Ancora Cosa mostriamo Mostriamo ciò Che scriviamo qui Nella root Ok Quindi È solo una maniera Di descrivere le root Noi Chi è che ha deciso Queste root Le ha decise Chi programma L'applicazione Ci siamo noi Che decidiamo Che per la nostra applicazione Ha senso avere La root principale Slash Che diciamo È presente in tutte le applicazioni Quella di default Carichiamo un'applicazione Voi mettete il nome del sito E mettete slash O se non c'è Il browser lo mette E quella è la root principale La pagina di arrivo No E poi tutte le altre Dipendono da cosa Deve fare l'applicazione Non so Per esempio Nel vostro laboratorio Volete fare l'edit Potreste avere Una root Slash Edit Volete Vorreste fare un'add Potreste avere Una root Slash Add Volete Una vista di dettaglio Potreste avere Slash Film Slash Il numero del film L'id del film E così via Dovete decidere voi Che cosa fare Cominciamo con una cosa semplice Dopo la applichiamo al nostro esempio Dunque cos'è il nostro esempio di Mirgo in più Ah si Le risposte Quindi ci trasformiamo il nostro esempio In un esempio con le root Ok E quindi prima cosa Pensiamo alle root Poi le descriviamo Questo sarà quello che metteremo in app Descriviamo Ci creiamo dei componenti Che fanno le nostre visualizzazioni E poi dobbiamo fare in modo Di collegarle insieme Cioè Quando poi bisogna passare Da una root all'altra Quindi da un url Ad un altro Dobbiamo avere Dei link All'interno della nostra pagina Perché Se siete in add E dovete tornare Alla visualizzazione principale Dovete avere un bottone Un link Qualcosa Che cliccato Vi carichi la visualizzazione principale Ma non ricarichi L'applicazione Di carrouter Di caricare l'applicazione Nella versione Slash Quindi con l'url Slash Ok Quindi Diciamo che Da qualche parte Abbiamo una lista Di link O metteremo dei link in giro Collegati anche a dei bottoni Va benissimo Che Caricano Dei nuovi url Tra quelli ovviamente Che abbiamo previsto Nell'applicazione E quindi Abbiamo trasformato La nostra applicazione In un'applicazione Che ha diversi url Che visualizzano Diverse cose Ok Vabbè Routes possono essere definiti Come funzioni Componenti Queste Sono un po' nuovi Quelle funzioni Sono più macchinosi Noi per ora Stiamo con i componenti Probabilmente L'anno prossimo Passiamo Alle function Perché Facciamo queste cose Tutti gli anni evolvono Però in questo momento Secondo me Sono più chiari I components E gli altri Sono ancora in sviluppo Per cui è bene Stare con i components C'è una domanda Sì Sì Il tag root Questo I due maggiori Dove Ah Path Element Element No in graffa Ci sono C'è tutta la gerarchia Dei componenti Che noi vorremmo Venga renderizzata Per la root Questa Path Slash Ok Quindi ciò che c'è dentro È un componente GSX Ok E l'altro viene chiuso Perché è la chiusura Della root Che anche essa È un componente Quindi è un componente Che come attributo Ha un valore Che è un altro componente GSX Ok Questa Quella Quella Ah No Ha ragione Questa In effetti Questa è sbagliata Questa la correggiamo Grazie Questa che non l'avevo vista Ha ragione No no Non è necessaria Sì Adesso non ho l'esempio Andiamo a vedere No no ma Purtroppo è sempre così Ogni anno Beh però Questo è carino Perché ogni anno C'è qualcuno Che ci trova Un nuovo errore Grazie Quindi questo Lo faccio presente I colleghi Ma lo corrego Poi anche io Questa qui È ovviamente sbagliata No Perché sono due attributi Path ed element Di un componente Root Quindi non possiamo Chiuderlo qui Giusto Grazie Ok Però adesso Vediamo bene La sintassi E poi ovviamente Provando Se c'è qualcosa Che non mangi Si blocca Va bene Allora Come router Ci sono a disposizione Diversi router Noi usiamo Il browser router Ok Che è quello raccomandato E diciamo Quello che funziona meglio Sui browser moderni Gli altri sono presenti Più che altro Perché si è in compatibilità Con i browser più vecchi Che avevano un po' di problemi Come dire Con la gestione Via javascript Degli url Ok Il browser router Funziona bene Usa url Normali Senza lescia All'inizio Eccetera Quindi normalissimi url Che sembrano Un'applicazione Diciamo normale Tradizionale Ha però La necessità Di avere un minimo Di configurazione Lato server Quando poi Effettivamente Voi metteste Il vostro sito Su Diciamo Su un server web Vero e non In quello di sviluppo In quello di sviluppo È già tutto configurato A posto In quello vero Se avete voi Il server web Da configurare Dovete fare In modo che Tutti gli url Vadano a finire Su slash Perché Perché poi L'applicazione È lato client Che decide Cosa far vedere Come dicevo prima Ok Comunque diciamo Che di questo Ce ne occuperemo Forse L'ultima lezione Se abbiamo il tempo Di far vedere qualcosa Dubito Però Diciamo Trovate poi Delle istruzioni Come fare Il deploy Di un'applicazione React Vedrete che Insomma Vi diranno Come fare Ok La share router Lo lasciamo Da parte Dobbiamo mettere Tutto app Dentro Quindi Noi usiamo Lo server di sviluppo Per cui non abbiamo Nessuna configurazione Da fare Perché è già fatta Come vi ho fatto Vedere prima Mettete qualsiasi urla E viene fuori sempre La stessa applicazione La stessa applicazione Se Diciamo Abbiamo da farlo Va bene La prossima settimana Parliamo un attimo Di serve Eventualmente Diciamo una parola Però Lasciamo perdere In questo momento Ogni url Ha Ogni root Ha Da specificare L'url Di cui fa il match E L'elemento Che deve essere Un elemento GSX Quindi Tipicamente Un nostro componente In cui avremo messo Return Di tutti i componenti Che vogliamo visualizzare No E spesso faremo Un componente Per ogni root Perché Perché così Mantiene le root Un po' pulite Non è obbligatorio Ma è chiaro che Come sempre Se apriamo una graph E scriviamo di tutto Poi non si capisce più nulla E non si capisce più Dove chiudiamo Ok Come osservava Il vostro collega Prima Non è che dopo il path C'è il maggiore Qui è scritto correttamente E non Diciamo Chiudiamo solo Il Componente root Con Slash Maggiore Come per tutti i componenti Che non hanno figli Ok Se non hanno figli Ok Quindi Root funziona Specificando Il path Che deve Matchare Quindi Qual è il percorso Per la quale Questa root Si attiva Slash O slash Qualcosa E poi Che cosa bisogna Visualizzare Lo fa con due attributi Uno che si chiama path E l'altro che si chiama element L'element Aperta graffa Deve essere Qualcosa di valido In termini di jsx Il frammento jsx Che viene visualizzato Ok Come funziona Poi magari facciamo un po' di pausa Adesso Come funziona Opla Il Il Meccanismo di matching Delle root No Abbiamo visto Slash Slash Fragment Slash Slash User E così via No Cioè E' chiaro che se andiamo a cercare la stringa Slash E' presente tutte le stringhe Come fa a funzionare Bene C'è questa regola Se L'url Corrisponde a più Path Di quelli specificati Nella roots Solo Quello più specifico Viene selezionato No Quindi se c'è scritto Slash Qualcosa E quel qualcosa Corrisponde All'url E non faccio il match Su slash Ma faccio smash Su slash Qualcosa Cioè diciamo così Sull'url Diciamo che match Ha più carattere Adesso non so come sia definito Comunque Fondamentalmente Quello Che è più specifico Della url Che abbiamo Messo Sulla barra Del browser Abbiamo messo Noi Oppure ha messo Il router Navigando Su quell'url Ok Quindi fondamentalmente Diciamo così Che slash Matcha tutto quello Che non Matchano gli altri No Quindi Viene attivato Solamente Se c'è qualcosa Che non corrisponde A quello Che c'è scritto Negli altri Path Ok Abbiamo la possibilità Di inserire Due caratteri speciali Nei Path Uno è L'asterisco Star Che fa il match Di tutto Qualsiasi cosa Ci sia scritto Lì A meno Che non ci sia Qualcosa di più specifico Scritto In un altro Path Quindi se ci fosse scritto Docs Barra Enrico Che ne so Docs Barra Lista voti Non lo so Docs Barra Qualsiasi cosa Istruzioni E poi c'è Docs Asterisco Ovviamente viene fatto Il mail su Docs Barra Istruzioni Se siamo su Istruzioni Se siamo su Barra Qualcos'altro E non c'è Una specifica Barra Qualcos'altro Nel path Viene usato Questo Docs Asterisco E non slash Perché c'è Docs Che è meglio Come dire Corrisponde meglio A questo path Piuttosto che È il semplice Slash Quindi questo è il funzionamento Di asterisco Che è abbastanza Come dire Intuitivo Qualsiasi cosa Al posto di asterisco Tranne che ci sia Ci siano valori Più specifici Invece Il due punti Cos'è il due punti Il due punti È una parte Dinamica Dell'url Ossia Stiamo dicendo Che tutto ciò Che c'è Dopo i due punti Verrà preso E messo In una variabile A disposizione Del Componente Se Questo Url Fa il match Con quello Che abbiamo scritto Qui nel path Quindi se la prima Parte dell'url È Barra users E poi c'è Barra E poi c'è Qualcosa Questo qualcosa Verrà Allora Si fa il match Sicuramente Ma il qualcosa Viene anche messo A disposizione Nella nostra applicazione Sotto forma Di una variabile Che ha il nome Che abbiamo scritto Qui dopo i due punti Ok Quindi Tipicamente Questo meccanismo Di scrivere I path Lo usiamo Per scrivere Degli url Parametrici No Quindi in cui Alcune Delle parti Sono Dei valori Dinamici Che so Potrebbe essere Appunto L'id L'id dell'utente L'id del film Che avete in laboratorio L'id della domanda Della risposta Che vogliamo visualizzare E così via Ok Perché altrimenti Non sapremmo come scrivere Se possiamo mettere Asterisco Diciamo Il percorso Viene matchato Quindi l'url Viene matchato Però Poi non abbiamo Una maniera Di andare a recuperare Quel pezzettino Di url In maniera semplice Perché Perché non gli abbiamo Dato un nome Quindi dovremmo Prendere tutto l'url Dividercelo a noi Con un po' di funzioni JavaScript Che operano sulle string Eccetera Invece c'è questo Meccanismo Molto semplice Che ci verrà Diciamo In aiuto Tra poco Per andare A recuperare Quella porzione Di url Che ci interessa Dunque Di default Il match È case insensitive E vi Raccomandiamo Fortemente Di usare Questo default E di non farlo Diventare case sensitive Perché se no Poi cominciamo Con le maiuscole A non capirci più nulla C'è una root Maiuscola La root minuscola E così via E Diciamo Se avete bisogno Di Di questo meccanismo Siete già in un'applicazione Estremamente complicata O state modificando qualcosa Che era già stato costruito Insomma Meglio evitare Se possibile Ok Io farei un po' di pausa Adesso Così abbiamo fatto Un po' di introduzione Nella root Finiamo il discorso E facciamo l'esempio Nella seconda parte Della lezione Quindi se qualcuno Ha un po' di dubbi Sulla root È vero che non abbiamo Spiegato tutto Adesso Dettaglieremo meglio Però questo è un po' Il principio Se avete dei dubbi Su come si carica L'applicazione Eccetera Chiedetemi nell'intervalle Poi andiamo avanti Ok Va bene Facciamo pausa Grazie